L'Unione fa la forza, a sostenerlo sono indubbiamente i commercianti cortonesi. Per la prima volta infatti tutto il tessuto produttivo, artigiano e commerciale del centro storico si unisce per realizzare un progetto innovativo in grado di animare la città, Cortona Jets Night, in programma per sabato 17 giugno. Si è partita dal basso che i commercianti di Cortona si sono uniti insieme all'associazione di categoria e insieme all'amministrazione comunale hanno voluto costruire qualcosa, una prova estiva per poi pensare altre cose da ripetere in momenti dell'anno in cui magari i negozi soffrono di più perché il turismo non è stagione turistica, quindi il periodo invernale o il periodo natalizio. Penso che il discorso di creare un'unione fra i commercianti dopo gli inverni passati, le difficoltà passate, sia reso necessario capire da parte di tutti che è creare una sinergia, un'unione e proporre anche noi cose da fare, eventi e metterci in gioco. Il programma prevede ben sei formazioni costili Jets diversi. Cominciare dalle 4 con Giulio Stracciati, un virtuoso della chitarra, chitarrista del Siena Jazz, poi si parte con gli ADG di Perugia, questi fanno jazz sperimentale, poi si passa al genere Dixieland con la The Old Florence Dixie Band di Firenze. Alle 21 avremo in piazza Signorelli il trio di Riccardo Gola. Elettra Franchina è una cantante jazz emergente però d'alto livello e speriamo che Cortona sia anche il trampolino per alcuni artisti. E poi si guiderà con Alessio Modrian invece cambiando completamente genere, però spero che poi a un certo punto commercianti, cittadini, turisti si trovino tutti in piazza a ballare la musica di Alessio Modrian.